All'amico Domenico della Radio Ganna 5, giocolo delle radio e delle direzioni che sono venute per fortuna ad amplificare questo messaggio di amore universale. L'unico messaggio di vero amore universale è il nostro, è il nostro. Quello che viene millantato da altri non è amore universale, è amore specista, è amore specista. Cioè amore, la classificazione del valore di una vita, ecco qua, questo cartello, io vorrei andare dentro Montecitorio, da Draghi e da tutti quelli che stanno addentro, con questo cavallo, con questo cartello davanti, con questo cartello davanti, ma le sapete leggere queste parole? Le sapete leggere queste parole? Qui, anche gli amici poliziotti, credo che anche loro siano in grado di capire che è un messaggio di non violenza, di non violenza, di non violenza, e una canzone di Francesca va espresso come meglio, che non si poteva, è una vergogna, che nel 2022 siamo costretti a difendere chi non ha voce, è una vergogna! Quale società civile? Quale? La parola civiltà, dove sta la civiltà? La civiltà sono questi, questi che vivono, sono esseri completi, completi, finiti, c'è lo scrittore americano Besson, che ha definito gli animali altre nazioni, altre entità, che hanno la sfortuna di essere ingarbugliati, ingarbugliati insieme a noi nella rete e nel travaglio della vita, ma sono completi, finiti, vivono in armonia perfetta, anche con quello che gli abbiamo fatto, gli abbiamo ricoperto il pianeta di cemento, Milaniere e Moro, lì, a vivere sempre ogni giorno come fosse l'ultimo, e qui c'è gente che vive come se non dovesse morire mai, e morirà senza aver mai vissuto, senza aver mai vissuto! Grazie. Grazie a tutti.